La socialità è una progettiva del genere umano. Come diceva il celebre filosofo prego Aristotele, l'uomo è un animale sociale, quindi geneticamente predisposto alle interazioni con i propri simili. Questo concetto si è evoluto insieme al progettire dell'ottiluppo tecnologico e sociale del genere umano, dai caffè letterari e le ghiacchierate mondane per poi trovare una forte svolta con l'arrivo dei computer. Tramite la connessione ad internet e le reti mobili è possibile comunicare in ogni dove e in ogni istante con persone di tutto il mondo e con la web del social network si è creata una piazza digitale in cui mostrare le proprie foto, i video e i propri interessi personali. Guardando indietro si provoca di nostalgia di quella socialità più genuina, ma guardando avanti c'è anche tanta curiosità di quanto essa possa diventare più feroce ed efficiente. Ciò che conta è alla fine che la socialità, nonostante sia in continuo mutamento, è anche una costante della nostra essenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.